come potete notare in questa sala d'incisione non c'è il riscaldamento io poi siccome mi sbagliano sempre il nome ho messo una maglia che non si sa mai allora chi è questa ragazza vieni qui che sennò ti impalli è la silvietta olari allora abbiamo la canzone che anche tu metti e manterrai nel mio disco di natale pronto fra martino campanaro il disco di natale no 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 scusate fan fan non è questa la canzone è una canzone molto bella ma purtroppo per questioni di sorpresa non possiamo farvela sentire però un pezzettino dai i giovani hanno troppo da fare bravi bravi per fare questo mondo migliore o almeno mi hanno detto così dimmi di no Silvia Olari nel mio disco yeah a presto